Sono tutti da valutare, il calcio d'estate è particolare, mi sembra una buona squadra questo Napoli, l'allenatore è un allenatore di esperienza, di grande intelligenza e poi a Napoli i giocatori fanno i giocatori, quindi ci sono la miscela giusta. Ho visto stasera un giocatore fondamentale, io credo che il miglior luogo per sostituire Cavani è il Napoli, pur avrebbe sottotitulare. Ancora una volta che non è più favorita per questo campionato, le distanze forse si sono accorciate, però io credo che la diventessa ancora possa pensare di vincere a questo scuola.